buongiorno nel clima natalizio di questi giorni la liturgia ci invita a celebrare una festa molto particolare la festa dei martiri innocenti si tratta del racconto della strage dei bambini di betlemme voluta da erode dopo che i magi hanno visitato e adorato il figlio di maria e giuseppe ma non sono ripassati dal re erode per parlargli di lui avvisati in sogno dall'angelo hanno preferito un'altra strada e così pure giuseppe verrà avvisato in sogno di partire per l'egitto affinché il bambino non venga ammazzato siamo al capitolo 2 di matteo dal versetto 13 al 18 e si tratta certamente di una delle pagine più drammatiche della sacra scrittura un'anticipazione della croce che ci mette dentro il mistero del dolore e della morte proprio nei giorni in cui contempliamo la nascita del figlio di dio come uomo in mezzo a noi il tutto ha qualcosa di sorprendente sorprende il sangue versato quasi a difesa e a tutela della vita del bambino gesù il quale invece scampa alla morte ma deve condividere la vita dei migranti degli esuli fuggitivo in terra straniera e colpisce perché il male rimane comunque un mistero grande e il canto che viene citato alla fine del brano cita una profezia di geremia nella quale si fa risuonare il pianto e il lamento grande di racchiele che piange i propri figli in esilio la moglie di giacobbe madre di giuseppe e di beniamino soffre infatti per l'esilio dei propri figli in babilonia dunque una storia che si ripete e tuttavia per comprendere il senso di tutto questo vanno conosciute le scritture perché nel libro di geremia dopo questo inno di dolore vi è l'annuncio di una salvezza che viene di una liberazione di una fedeltà di dio che non perde occasione per rinnovarsi sarà proprio così anche con gesù quando il bambino tornerà dalla g dall'egitto portato dai suoi genitori diventerà strumento di salvezza per tutti gli innocenti del mondo di tutta la storia di ogni epoca la sofferenza dei più piccoli non va perduta gesù sarà colui che saprà caricare su di sé le conseguenze del peccato e con la propria morte innocente sulla croce darà vita a tutti coloro che l'hanno perduta per colpe non proprie vince il peccato l'innocenza consegnata dare la vita anche senza saperlo è strumento di salvezza perché la vita non finisce qui ma continua nell'eternità del cielo buona festa nei martiri innocenti imparando a dare la vita per gesù grazie a tutti grazie a tutti